Mi hanno cominciato a venire i miei Allora ecco come li lavavano a terra, ecco come devi stare nei panni ecco come devi stare nelle camicie con la strossa di mia madre che cucinava a pranzo e a cena e mio marito non ci capiva niente I suoi invece erano figli, mi chiamavano mai i miei invece no, mia madre che cominciava a bussare già a mezzogiorno e mio padre che arrivava subito dopo il lavoro e mio marito non li sopportava più E infatti E come ti chiami? Anna Io sono qua C'è ragione, forse mi devo sparare un coppio quando faccio 20 anni Lo vedi? Eh Buon po' di fila Asiva